Maniaci del wrestling, ma soprattutto fan della WWE e Impact, in questo video andrò a raccontarvi di quella volta in cui Court Angle nominò la TNA durante una puntata di Raw in diretta. Andiamo un po' a vedere cosa accadde quel giorno. Qualcuno che ha la mente più fresca si ricorderà di questo evento che non è accaduto nel passato così remoto, perché dobbiamo tornare indietro di solamente poco più di un anno, alla puntata di Raw del 9 aprile 2018, Raw After Mania 34. Si sa, le puntate di Raw After Mania sono caratterizzate da innumerevoli ritorni, debutti da NXT, eccetera, eccetera. Ma successe che si tende questo segmento abbastanza particolare fra Court Angle, Kevin Owens e Sami Zayn. I canadessi combatterono a Vrest Mania contro il rientrante Daniel Bryan e Shane McMahon in un tag team match, vinto dal team dell'allora commissioner e general manager dello show blue. E, d'accordo, Owens e Sami Zayn, dopo la sconfitta, avrebbero dovuto lasciare il roster blue. E così fu. Infatti andarono a cercare lavoro appunto nel roster di Raw, e vennero accolti dall'ufficio di Court Angle. I due cercarono lavoro come tag team, e Angle gli spiegò che al momento la sua divisione tag team era piena. E quindi disse con molta calma, come se niente fosse, I heard the TNA is hearing. La mia divisione è completa, ma so che la TNA è pronta ad assumervi. Vi lascio il filmato originale, per riferiscarvi in buona memoria, oppure per curiosità. Ecco a voi. Inutile dire che quando ho sentito TNA, avrei voluto tirare un pugno con le nocche al televisore. Sì. Vabbè, penso che abbiate capito il perché. Comunque, il segmento, appena un attimo dopo la citazione alla TNA di Impact, il pubblico reagisce rumoreggiando con urla di sorpresa, dato che vedere nominare un'altra federazione in Dalby Dalui è qualcosa di estremamente raro. Lo abbiamo visto con la leggendaria Pipebomb di CM Punk, ma fu tutta un'altra storia. E c'è da dire che la federazione di Toronto Impact non stette lì a guardare. Infatti, poche ore dopo la puntata di Raw, ci furono due post importanti sul profilo Twitter. Il primo, proprio della federazione Impact Wrestling, che mette un post semplicemente scrivendo We Are Impact, e Rosemary, la demon assassin Rosemary, che invita i fan della WWE a seguire lo show settimanale che si sarebbe ritenuto il giovedì notte. Sì, perché Impact all'epoca andava ancora in onda il giovedì, non ancora il venerdì, come lo è da qualche mese. E con questo invito di Rosemary, sembra strano, ma Impact ha avuto un notevole picco di ascolti quella settimana. Quella settimana e quella successiva. Magari molte persone, forse i fan più giovani, non conoscendo neanche quest'altra federazione, hanno cercato di informarsi per curiosità, che magari neanche sapevano di questa federazione di wrestling, si sono informati, hanno visto lo show settimanale che ha proposto Rosemary taggando, se non sbaglio, anche l'hashtag Raw, e quindi, diciamo, gli ascolti per un paio di puntate crebbero molto stranamente. Sì, questo è purtroppo una dimostrazione del divario, ovviamente, che c'è fra la WWE e qualsiasi altra federazione. Impact, specialmente, che è la seconda federazione d'America, che dovrebbe essere colei che tiene testa la WWE. Vabbè. Tuttavia, tuttavia, questo segmento è stato, dopo circa una settimana, è stato rapidamente dimenticato. con poi Kurt Angle, che alla fine, nella stessa puntata di Raw, sancì un one-on-one match fra Kevin Omos e Sami Zayn, e il perdente avrebbe dovuto lasciare la WWE. Peccato che il match finì in un double TKO, dato che Neowen e Sami Zayn si alzarono al conto di 10 dal tappeto. e poi, ovviamente, il lavoro a Raw lo trovarono in un secondo momento, non subito in questa puntata. Quindi, ragazzi, se voi volete dirvi qualche altra cosa riguardo a questo argomento, fate un commento qua sotto, mi fa piacere sapere la vostra. Se volete, condividete e mettete un like al video. È stato un piacere, ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao. Ciao, ciao.